La Toscana, dati del Ministero della Salute, al 30 aprile 2021 ha un indice RT pari a 1,78. Se le regole fossero quelle che abbiamo sempre usato durante tutta la pandemia, la nostra regione sarebbe già di nuovo alle prese con chiusure e restrizioni. Il nuovo indice, che però stavolta determinerà i colori delle regioni, è l'occupazione dei posti letto nelle aree Covid. Nonostante il contagio, soprattutto rispetto alla variante Delta, corra e parecchio anche in Toscana, le conseguenze cliniche dei nuovi positivi sono per il momento molto diverse rispetto alla prima e seconda ondata del Covid. Lo conferma l'assessore regionale alla salute. Le informazioni che abbiamo sono di una sostanziale stabilità, non di grandi incrementi in termini di ricoveri ordinari e di terapie intensive e questo fa emergere una valutazione, che da una parte la variante ovviamente gira e il contagio si diffonde, ma gli effetti sanitari sono ridotti rispetto, molto ridotti rispetto al passato. Questo perché c'è l'effetto della vaccinazione. Cioè la vaccinazione riduce il rischio contagio, ma riduce anche i rischi sanitari. Ecco perché questo sta emergendo in questa fase, proprio dal fatto che nonostante una grossa ripresa del contagio, gli effetti sanitari siano ridotti. Quindi li invita a vaccinarsi. Sul fronte ai vaccini la Toscana sta recuperando terreno. Di certo c'è che Arezzo e l'Asle Toscana Sud-Est sono invece in controtendenza, con numeri molto alti. Al 30 luglio 2021 i vaccinati in tutta l'Asle Toscana Sud-Est con le prime dosi sono quasi mezzo milione di toscani. Ad Arezzo hanno invece effettuato già la prima dose quasi 200.000 retini e la seconda circa 150.000. Noi procediamo, come ho già detto più volte, a sprombattuto nell'assicurare nella provincia di Arezzo la massima copertura di vaccini. La copertura vaccinale è importante, però questo non ci deve far abbandonare l'utilizzo della mascherina, che rappresenta un presidio assolutamente fondamentale nella prevenzione della diffusione del virus. Anche perché il contagio occorre tra giovani e giovanissimi, per fortuna però il dato ospedaliero rimane sempre confortante. Questo è un dato abbastanza diffuso su tutto il territorio nazionale. C'è una differenza tra livello dei contagi e livelli di pressione ospedaliera e questo, secondo gli esperti, è dovuto al diffondersi della vaccinazione, che previene sicuramente le manifestazioni più gravi di malattia. Ma noi siamo in realtà, per quanto riguarda i target di somministrazione, sopra media nazionale sugli over 80, sopra media nazionale sui settantenni, sopra media nazionale sui sessantenni, più o meno in media nazionale sui cinquantenni, tanto per dire i target. Poi è chiaro che escano tabelle diverse, a secondo del punto di vista dal quale guardi la vaccinazione, a volte hai riscontri positivi, a volte hai riscontri meno positivi. Una volta guardi le prime dosi e quelle diventano e sei messo bene, una volta guardi le seconde dosi e sei messo meno bene. Ma il punto è questo, noi stiamo facendo 38.000 somministrazioni medie ogni giorno. Io credo che si debba andare avanti con questo ritmo. Ripeto, ci sono posti vuoti e quindi l'importante è prenotarsi. Se le persone si prenotano, le vaccinazioni vengono fatte.